e benvenuti in questo prossimo video di brawl stars ragazzi altro episodio per sei del potere siamo sempre insieme a mello e sorinno la comp studiata per questa per questo evento ricercati è shelly abbiamo bo per sorinno e mello usa tar nel frattempo mello sta dicendo altre altre cose così tipo mettiamo il totem inizio io vi dico che ieri che non è stato registrato perché faccio un video si un video no come avevo già spiegato ieri abbiamo fatto due partite vittoria trionfale epica super mega power e poi abbiamo una persa oggi che registro faremo tra sconfitte perché vuoi come succeda così allora non ti attaccare in solo aspetta sempre sorinno va bene ragazzi ci siamo ci siamo io direi che senza un dugeo con se guggio andiamo a vedere la prima partita e speriamo di di non morirci subito tutto ma io ok con secondo anche la ulti quasi quasi aspettiamo la ulti che carichi tanto il tipo appena ha spiegato la ok uno ho tirato giù è tutto 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 che io ripro la vita bella grande la bea lì invece ha già usato la star power quindi non può più tornare un po più rimanere a uno di vita adesso eh basta eh ci c'è bello ragazzi che sberlone ho tirato occhio bello grande sorinno aspetta che mi ricarico vita ok abbiamo un'altra ulti pronta pronta non sta andando male eh non sta andando male per niente aspettiamo un secondo come arrivano ragazzi che sberla no va bene va bene va bene mello hai fatto una giocata pazzesca comunque eh nulla a dire eh 20 secondi prende dai un colpo ok ottimo buono bello 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 la prima è andata molto bene trionfo epico anche ottimo direi la comp sembra girare benino andiamo sotto con la seconda partita zan 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 poi invece è un altro il pazzesco io ma ci sono dinari tecnici io comunque il totem mi avrei messo leggermente più indietro non lo mettevo qua sincero perché se per caso ci è esatto io lo so ma se per caso trovi il lanciatore e te lo tira giu subito il totem è Ecco l'ho tirato giù Ah, c'era quella che era one hit Era one hit Mi fa colpirmi sempre Ah, ma non ha mancato un colpo questo No, 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 scappa Ok Aspettiamo qua un secondo Io vado dietro Sorin Bella Attiviamo e andiamocene, bravo Attiviamo anche l'altra, andiamocene Non serve probabilmente Sì, sì, bello, bello Grande Ragazzi, che Che bella Bravo Mello, bravo, bravo Bravo davvero Bravo, 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 bravo Nulla da dire Tu vattene Oh, come scappa Felino Felino Un felino Mamma mao Che fuga Vattene via Vattene via Bacille Bacille Ottimus Prime Bravi, bravi Questa Questa Era partita male Sinceramente Partita male ma L'abbiamo tenuta bene Buono, buono Ragazzi Due su tre Vediamo se facciamo Unplane O come si dice No, dobbene c'è Unplane A memoria Non so Allora, allora, allora Uh, bello Può metterlo anche davanti Non hanno nessun tipo di lanciatore Non hanno nessun tipo di lanciatore Può metterlo anche davanti Non è un problema Grande Sorin Ragazzi Come mi capisce Sorin No, la verità è che Sorin è Mi sta ascoltando Su Discord Non sta Non sta parlando Però mi sta ascoltando Su Discord Quindi sa benissimo Cosa vi sto dicendo Esattamente Eccola qua Mi sto Ogni tanto Comparre da nulla Sì Ragazzi Ho tirato Ho tirato Una ultima Ho beccato Due su tre A mi me gusta Ballare Ritmo Welta Grande Portatelo qua Sorin Sì Ottimo Dai Vieni Aspetta 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 Bella ulti Bella, 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 bella Io prendo un secondo vita Che se no qua mi ammazza Mamma mia gadget super Eh, sono scappato via anche bene Però avevo l'effetto veleno Veleno world Ah scappi eh Non ve lo siete mangiato quel corvaccio Ok, altro totem Il totem dell'amicizia Sì, toccalo Grande Sorin Via Ma perché voglio sempre per il veleno? Vabbè fa niente 3 su 3 I'm playing Non è vittoria epica ma Ottimo direi The first three of three Ragazzi io direi che per concludere il video Ci apriamo la ricompensa che è la mega cassa Magari, boh, mi va di fortuna trovo qualcosa Prima di aprire compensa poi vi ricordo di commentare se non mi piace con il mio video video Scrivevi per attivare la campana e linea Detto questo Mega cassa per noi Sei skip Sei skip veramente? Sei skip Dai la mic Eugenio Eugenio Barril Semino Franky Frank Posso portare finalmente o E Gadget di Tara Bello gadget di Tara Quello che posso vedere i nemici nascosti Bello Adesso Quello che ho usato bello Sì, adesso inizia ad essere un'altra cosina Bene Ragazzuoli Sì, grazie mille per la visualizzazione Ci vediamo alla prossima E Addio E grazie per il pesce Ciao ragazzi